Siamo a metà dell'opera in questo momento. Abbiamo fatto molto, si è fatto molto e molto rimane ancora da fare. 30 volontari stanno cambiando il volto della città. Sono gli uomini di Percomo Pulita, l'associazione fondata nel 2012 con lo scopo di contrastare il degrado e l'azione dei vandali. Armati di solventi e pennelli hanno pulito i muri imbrattati dai writer e hanno ridato dignità a molti luoghi simbolo. Basti citare la scalinata della stazione San Giovanni, il monumento ai caduti, le ringhiere del Cosia, il cimitero di Lora. Questi gli interventi più grandi che hanno coinvolto moltissime persone, ma ogni giorno squadre più piccole sono impegnate nella gestione dell'ordinario. Ripulire dalle scritte, pali della luce, cassette delle lettere solo per fare qualche esempio. Abbiamo in previsione di fare altri interventi piuttosto consistenti. C'è da dire una cosa. Adesso, dopo aver fatto questi interventi, è molto importante la manutenzione. L'unico intento comunque è di risollevare un po' le sorti della città. Oggi nella sede della famiglia Comasca i volontari hanno illustrato il proprio lavoro con le immagini che documentano il prima e il dopo dei diversi luoghi al centro degli interventi. Come detto, sono una trentina le persone coinvolte, giovani e meno giovani, pronti a mettere il proprio tempo a disposizione della collettività. Ma per chi volesse dare il proprio contributo è sempre possibile unirsi al gruppo. Chi volesse darci una mano comunque tenga presente che noi, sicuramente alla domenica, ogni domenica c'è una squadra o due squadre o tre squadre che escono. Quindi se volesse partecipare a queste missioni può recarsi direttamente o in Piazza Martinelli alle 9 di ogni domenica o comunque contattarci sulla nostra pagina Facebook. Se il lavoro è volontario, i materiali utilizzati per pulire e sistemare no. Negli anni però molte realtà associative del territorio hanno voluto contribuire alle spese. Grazie alle donazioni si è potuto fare molto. Abbiamo visto la città cambiare in questi anni e siamo soddisfatti, ha concluso Anna Ballerini, presidente dell'associazione. La nostra squadra è sempre pronta a rimboccarsi le maniche. La nostra squadra è sempre pronta a rimboccarsi le maniche. La nostra squadra è sempre pronta a rimboccarsi le maniche.